Prima volta come speaker al freelance camp, beh, la prima linea è tanta, perché è molto diverso, stare dall'altra parte, però è veramente una sensazione bellissima, e poi non supporta così. Sta ripassando. Prima volta come speaker. Emozionante. Ma allora, queste slide si possono far bene? Yes, we can! Questo tipo di rete così vivo, al di là del networking, mi è sempre sembrata una fegata adesso, proprio in soldoni. Quindi la seconda edizione di Roma ha detto, ok, vai, non vai. Sono un po' orso, quindi qui posso magari sfogarmi, sbloccarmi e vedere un po' che cosa succede. È tutto un po' da scoprire, ecco, davvero una scoperta. Io volevo dire un po' anche di questa scoperta. No, 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 no.